Alessandro Fonsati, collaboratore di gestione tornei e soprattutto responsabile di quella che è la parte tecnica di gestione tornei. Ci vuoi raccontare un po' come è nata anche per te questa avventura? Sì, insomma, insieme a Walter abbiamo cominciato con l'organizzare dei tornei. Nel mondo del calcio, soprattutto elettantistico, la parte tecnologica, pochi anni e poche società la curano e la utilizzano. Quindi noi forti di queste competenze abbiamo pensato invece di introdurla in maniera massiccia nelle nostre manifestazioni, nelle manifestazioni organizzate da noi. Quindi Walter, io lo definisco il mio commerciale perché comunque lui ha le conoscenze, le persone, è vicino al campo. Tutto quello che c'è dietro, il background, il sottobosco è curato da me e anche da altre persone, c'è Michele, Beppe. Carbone, Michele Cagnassone, che ci danno una mano. E poi dai tornei invece siete passati anche a un programma per le società. Ma sì, un'altra cosa che ci è capitato subito all'occhio era il fatto che, soprattutto le società elettantistiche, che si fondano sul volontariato, avevano poche risorse gestite male. Tante volte avere uno strumento che ti permette di curare, non so, dalle iscrizioni, le visite mediche, la parte di campo, di allenamenti, la parte anche di recupero degli infortuni. Insomma, lo scouting per le società anche un pochino più blasonate. Allora abbiamo cominciato a costruire un po' sulle esigenze, e devo dire che questa è stata un po' la parte difficile, riuscire a trasformare le esigenze di campo in esigenze informatiche, in un prodotto informatico. E quindi, cominciando a lavorare, intervistando gli allenatori, i direttori sportivi, le segreterie delle società elettantistiche, abbiamo confezionato, diciamo, in maniera quasi sartoriale per le società elettantistiche, un prodotto che gestisce in maniera semplice, anche con un'interfaccia semplice, perché anche queste persone che lavorano, che fanno il volontariato, magari sono persone che sono in pensione, comunque tutta gente che si dà da fare. E quindi abbiamo realizzato questa cosa cercando di cogliere un po' le esigenze di tutti. Ecco, ci vuoi raccontare un po', insomma, una società che utilizza il vostro gestionale, esattamente che cosa può fare, quali esigenze appunto va a coprire? Può curare tranquillamente dall'iscrizione del ragazzino, quindi avendo tutti i dati di iscrizione, la parte quindi medica, delle visite mediche agonistiche e non agonistiche, la parte anche di gestione, chiamiamola magazzino, più la parte di tesseramento, il modulo per i kit di allenamento, insomma, ci sono i pagamenti, ci sono parecchie cose. Questo sul lato segreteriale. Sulla parte invece di campo c'è tutta la parte riferita al tabellino delle partite, quindi creazione delle distinte, convocazioni via mail, sms, whatsapp, a seconda delle possibilità della società. Comunque la mail è quello che non ha costo e chiunque può accedervi. Quindi convocazioni, chiamiamole in tempo reale, gestione della distinta, del tabellino, minutaggi, presenze, gol, ammunizioni, tutto quello che è il mondo del calcio, e più la parte allenamenti. Presenza allenamenti, valutazioni dell'atleta, del singolo atleta, con schede pianificabili in qualunque momento, con gli item personalizzabili, quindi chi cura di più la parte tecnica, tattica, atletica, e ha monitorato in tempo reale le proprie considerazioni di campo. Un programma proprio a 360 gradi, insomma, va a coprire veramente tutti i ruoli più importanti all'interno di una società. So che tra l'altro è un programma che è piaciuto moltissimo anche, insomma, a società non da poco. Sì, in effetti diciamo che tra i primi clienti, un po' anche grazie alle conoscenze di Walter, abbiamo due società professionistiche, una di serie A del Piemonte, che lo utilizza, che è il Torino Calcio, e poi l'Alessandria e altre società che stanno valutando l'implementazione, perché bisogna valutare anche l'impatto che ha poi sulle persone. Noi cerchiamo di dare anche una sorta di formazione, seguiamo le società dall'implementazione fino all'utilizzo. E' un prodotto web, quindi è fruibile da casa, da un palmare, da uno smartphone, da un tablet. Volendo, insomma, ci si può sbizzarrire. Infatti le società professionistiche lo utilizzano soprattutto per lo scouting, che è un altro modulo che magari alle dilettantistiche non serve. Però alle professionistiche sì, perché hanno magari due o trecento osservatori sui campi, e compilano questi moduli, e in tempo, diciamo, zero, il responsabile dello scouting ha i risultati, o comunque ha le segnalazioni dei ragazzi. Poi adesso ci stiamo sviluppando altre cose che sono state richieste, tra cui la parte medica per la gestione degli infortuni, l'alimentazione, schede di preparazione, insomma. È un working pro. È un mondo veramente, per me che arrivo dalla parte tecnica, non pensavo, insomma. Adesso mi sto trovando a cercare di barcaminarmi con tutte queste informazioni. È altrettanto ovvio che bisogna popolare il database, bisogna avere persone che percepiscono l'importanza di caricare il dato, per poi avere poi dei risultati, dei dati che siano significativi.